il voto complessivo assegnato a questo articolo disconosciuto è di 8.6 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo è un articolo realizzato con ottimi materiali e con una qualità generale decisamente sopra la norma puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video questo articolo di garmin ha riscontrato una valutazione di 8.6 su 10 totali risulta al momento essere il più desiderato ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono leggero durata della batteria app mobile per l allenamento stile qualità del sonno trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video su unto ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.6 su un totale di 10 punti risulta essere il più votato per questa categoria con 11.600 valutazioni i suoi punti di forza sono comodo stile leggero impermeabile funzione timer durata della batteria se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video polar con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.4 su 10 è il più scontato di questa selezione si tratta di un modello di pregevole fattura con un rapporto qualità prezzo elevatissimo ed è molto apprezzato dagli utenti se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di polar è di 8.8 su 10 in questa selezione risulta essere il migliore riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice ma allo stesso tempo efficiente se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video questo prodotto realizzato da polar ha conquistato una votazione di 8.8 su 10 punti totali risulta il più venduto si tratta comunque di un articolo alquanto funzionale capace di distinguersi dalla concorrenza il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video e quindi Grazie a tutti.